Io ve lo dico ragazzi, per questo video da un'ora almeno 50.000 like Oddio funziona! Funziona! Magenta Gem livello 3 Bruni bentornati in un nuovo video della vita in città Ragazzi siamo finalmente arrivati nell'episodio da un'ora Lo so nessuno ci credeva che avrei portato un'ora di video Ma io in realtà sono qua e sto per registrare il video da un'ora So che siete super contenti però ragazzi dopo che abbiamo raggiunto i 40.000 like Oggi siccome vi sto facendo questo regalo per i 500.000 iscritti Vi chiedo ovviamente 50.000 like per questo episodio da un'ora Se ne volete un altro ovviamente non settimana prossima Vedremo in seguito magari quando arriveremo a 600.000 iscritti E per arrivare il prima possibile a 600.000 iscritti Dovete iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti Cliccando il tasto rosso qua sotto Siccome la vita in città è la serie comunque più vista Mi piacerebbe che voi mi diceste quale video fare Oltre a questi qua della vita in città più particolari per farveli vedere O comunque date una possibilità a tutte le altre serie Perché sono veramente molto interessanti Io conto in voi eh Tu che stai guardando questo video ti sto guardando Ma adesso burloni iniziamo con il video Il video sarà diviso in blocchi Il primo blocco parleremo del bed and breakfast ragazzi Come ben notate dietro alla nostra casa c'è una nuova costruzione Che ci ha fatto Marco Sono già d'accordo con lui col pagamento Guardate che belle sono delle nuove diciamo strutture Che ci serviranno appunto per far guadagnare soldi al mio bed and breakfast Là c'è Andres Qua ci sarà un'altra stanza Qua ci sarà un'altra stanza E sotto ci sono altre due stanze Per quanto riguarda i pagamenti però Sarà tutto completamente diverso Nel senso che Andreas o Andres Lo facciamo pagare 100 Perché è stato il primo acquirente Poi qua ci sarà la parte di colazione Che si pagherà a parte Quindi se tu vuoi avere la stanza e la colazione Ti costerà 100 più 20 Quindi 120 Ad Andreas io la lasciamo tutto a 100 Il nuovo acquirente che appunto Vivranno là sopra Sopra da una parte Sopra dall'altra Dovranno pagare 120 Se vogliono anche la colazione integrata E noi gli metteremo un po' di cose lì Che possono prendersi Invece per queste stanze qua sotto Saranno le stanze familiari Qui ci possono andare un minimo di 3 persone E tutta la stanza costerà 320 Quindi 300 più 20 di colazione E 20 di colazione sarà per tutti Ovviamente il tutto ad episodio Ho pensato anche ad una cosa Di fare delle scale Che partono da qua sotto Vedete da qua che ci sono due blocchi E da qua Per creare altre stanze sotto terra Fatemi sapere cosa ne pensate Secondo me è la cosa migliore Ma adesso ragazzi Cosa andiamo a fare Andiamo a comprare un po' di arredamento Per queste stanzette Perché dobbiamo comprare Arredamento per quella lì Per quella dall'altra parte Per le due sotto E per la nostra fantastica Sala colazioni Quindi prendiamo la nostra moto Dov'è la moto? Era qua Ma la moto era qua Dov'è finita? Non mi dire che l'ho lasciata in un'altra casa Ma si può che ogni volta mi sposto E non c'è mai Mannaggia ma questa cosa Non va mica bene Mi dite sempre Marci Ma ti dimentichi sempre la moto Avete ragione Mi dimentico sempre Non ci posso fare niente Ed una cosa di cui non vi ho parlato Del fatto che mi avete detto Praticamente tutti Che l'anno scorso video Ho sbagliato E ho pagato 200 euro in più Ragazzi Fa niente Non succede niente Avremo dei soldi Che dovremo spendere in meno In questo episodio Quindi non vi preoccupate Ma prima di andare a lecchia Dobbiamo passare dalla banca Allora Perché è qua la mia moto? Non ho capito Ma che diamine qualcuno L'ha usata senza dirmelo Per quanto riguarda appunto I soldi che mi ero presi dalla rapina Ho deciso Che ne prenderò un po' Vi ricordate che ne avevo presi un po' Più 64 Che avevo lasciati nella casa Nella nostra dispensa in cucina Allora Ho letto veramente tantissimi commenti Siccome Molti mi hanno detto Marci Usali Per cose che non intaccheranno Troppo la tua economia Avete ragione ragazzi Quindi Oggi andremo ad utilizzarne Un pochino Perché secondo me Possiamo fare veramente qualcosa Di super 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 bello Sono contento di questa cosa Sono contento che mi abbiate dato il via Quindi per adesso Utilizziamo gli 11 Che abbiamo qua E li andiamo subito a cambiare Con pezzi Da 100 Quindi ciao amico mio Io ho bisogno dei pezzi da 100 Dove sono i pezzi da 100 Eccoli qua Vedete qua Oh Ne abbiamo veramente già tantissimi 1 2 3 4 Ok Questi qua ce li teniamo nell'inventario Non li mettiamo nel portafoglio Nel portafoglio teniamo solo I soldi veri e propri Siccome ragazzi Molti mi avete detto Guarda Marci Però sinceramente Oh io devo anche mangiare Dov'è il mio cibo Ma abbiamo del cibo io Ho delle patate Oh eccole qua Abbiamo l'insalata Mangiamoci l'insalata ragazzi Di sera dobbiamo mangiare per forza sano Guarda tanto mi da 3 Quindi ci sta Dicevo Mi avete detto comunque tutti di utilizzarli Quindi mi sembra il caso Che per delle cosine Tipo Non so la ma Oddio potremmo comprare la macchina In questo episodio Possiamo utilizzarli Quindi ci sta come cosa Qua c'è Marco Allora cerchiamo di capire Cosa possiamo comprare Io pensavo che sicuramente Dobbiamo comprare questi Quanto costano 50 Non ho pezzi da 50 Quindi vado a cambiare Anche questi pezzettini qua In pezzi da 50 Perché praticamente Vedete 46 Facciamo un po' di pezzi da 50 Almeno siamo a posto Ok ragazzi Abbiamo cambiato i soldi Ne ho presi sia un pochino da 100 Sia un pochino da 50 Cos'è meno quando andiamo A comprare le cose Siamo belli che buoni Però adesso dobbiamo Dormire prima di tutto Benissimo I dipendenti dell'Ikea Ancora non ci sono Ci sono già i primi clienti Ciao Bartolomeo Come stai? Allora Come arrediamo I nostri interni Appunto Delle nostre stanze? Voglio farli più o meno Tutti uguali Quindi cosa vuol dire? Che innanzitutto Prendiamo magari Siccome sono 4 stanze Che dobbiamo arredare Un pochino di questi qua E siccome Quelle di sopra sono singole Quindi facciamo 1 e 2 Sotto siccome è familiare Dobbiamo fare 1 e 2 Più quella del bambino 1 e 2 Più quella del bambino Ok quindi ne abbiamo 8 Mi piace ragazzi Come cosa? Perfetto Per quanto riguarda Il colore delle lampade Io farei più o meno Tutto uguali Siccome praticamente È tutto blu Il nostro Il nostro bed and breakfast Facciamo tutto blu Quindi ne dobbiamo prendere 8 Anche in questo caso Quante ne ho prese? Forse ne ho prese di più Dove me le ha messe? Vediamo un po' Quante ne ho? 7 e 8 Me la dai Perfetto 8 Poi cosa dobbiamo prendere? Io direi di prendere Anche appunto degli armadi Costano 300 Forse questi qui Sono un pochino più carini Da mettere dentro Non lo so Vediamo quello bianco O questo qua Devo decidere No quello nero Forse è più carino Questo quanto costa? 300 La facciamo che ne prendiamo 1 per stanza 1 2 3 E 4 Perfetto E magari nelle stanze Quelle familiari Ci prendiamo anche questi qua Perché costano di più di questo qua? Sono veramente confuso Ok va bene Prendiamo 2 di questi qua Poi ci sono delle tende Le tende sono tipo bellissime Ma costano 20 Magari vengo a prenderle dopo Prendiamo anche questo qua Magari Guarda che carino Magari prendiamo 1, 2 E 4 Perfetto Abbiamo anche il ventilatore Per le stanze Quindi fantastico Per quanto riguarda i letti Io voglio farli tutti completamente blu Mi sembra la cosa migliore Quindi dobbiamo prenderne tanti Dobbiamo prenderne letti Ma ne fa pagare Cari Marco Ok ho tipo già 4 letti Ho finito i soldi Quindi devo andare a cambiarne ancora Un bel po' Sì Ok rieccoci Allora ne abbiamo presi 4 Ce ne servono questi qui Sono i due matrimoniali Poi ci serve quello per il bambino Quello per il bambino Più quelli due sopra Perfetto Ok abbiamo preso anche queste cose qua Mi sembra ottima come cosa Io prenderei anche quello per le scarpe Quindi 1, 2, 3, 4 E abbiamo anche 4 portascarpe Per le varie stanze Panni sporchi Anche qua Perché questo costa 20 Costa poco Devo andare a prendere anche i pezzi da 20 Ma lo facciamo dopo Adesso non lo voglio Poi direi che la cucina Non la mettiamo Perché comunque è solo un bed and breakfast Quindi non avrebbe senso Mettiamo direi magari Non so Il water dentro ogni stanza 1, 2, 3 e 4 E abbiamo preso anche i bagni Poi qua non ci serve nient'altro Prenderei solo un lavandino Che però Marco non vende Vi rendete conto che Marco Non vende il lavandino Vabbè prendiamo la doccia Una doccia 2, 3 e 4 Tutto all'aperto lo facciamo E questo costa 20 Questo lo passiamo a prendere poi Direi che abbiamo preso praticamente Tutto quello che ci serviva Se non che Allora voglio anche questi qua Questo costa 900 Per ogni stanzetta Ci starebbe per un bel televisore Magari prendiamo solo questo qua Questo costa 900 Però va anche il coso davanti Beh potremmo fare un bel investimento Ragazzi Facciamo così Per le stanze matrimoniali Ne prendiamo due così Ok Invece per quelle normali Prendiamo questo qua Ok allora Diciamo che ci siamo A livello di Arreddamento Forse l'unica cosa che manca Magari sono un po' di tappeti Quelle cose lì Ma direi che comunque ci siamo Mi sa che Marco comunque Ha già messo praticamente In vendita tutto quello che poteva Qua ci sono anche I divani Che costano un bel po' I divani Quindi no Niente divani per marci Stiamo spendendo veramente tanto Sarà un episodio In cui spenderemo tanto Siccome durerà tanto l'episodio Spenderemo anche tantissimo Sì comunque magari Prendiamo Un tavolino Che costa 50 Ne prendiamo comunque 4 1 2 3 4 E sarebbe bello Prendere magari una poltroncina Non le vende le poltroncine Ma vabbè ci sono delle sedie Vado a cambiare i pezzi da 20 Ragazzi Prendo le cose che mi avanzano E così poi continuiamo Ok a soldi ci siamo Prendiamone un po' di queste qua Ne prendiamo Beh veramente Prendere fino a 15 Ok 15 Ok perfetto Cosa che dovevamo prendere altro Che Dicevo che Mi servivano i pezzi da 20 Mannaggia le docce Allora ce ne serve 1 2 3 E 4 E le sedie sopra Le sedie Ecco cosa vi ero dimenticato Mannaggia me ragazzi Vedete A fare l'episodio da un'ora Mi vado a dimenticare Le cose importanti Cavolo Non va bene questa cosa Però fa niente Dai prendiamo queste sedie 4 1 2 3 E 4 Ha finito praticamente tutti i soldi Ho speso già 11.000 Per fare le mie stanze Del bed and breakfast Però sono sicuro Che ci rientrerò ragazzi Tranquilli Poi questi qua Sono i soldi Della rapina E devo essere sincero Ogni volta che mi dicevate Marci ma guarda Secondo me è giusto Che tu ti tengas i soldi Della rapina Io diciamo che Non prendevo in considerazione Questa cosa Però effettivamente Comunque abbiamo fatto Un tunnel Li abbiamo fatti scappare Li abbiamo messi via Abbiamo le chiavi del bunker E io non li rubo Quei soldi Però diciamo che È giusto anche il fatto Che mi sia tenuto qualcosa Solo uno stack A presto Ma che diamine Mi state dicendo Ma No ragazzi Il nostro rivale Se n'è andato Ok Infatti non sentivamo parlare di lui Da veramente tanto tempo E questa cosa sinceramente Un po' mi puzza Devo essere sincero Quindi sono un pochino Spaventato Se possa stare scogitando qualcosa Effettivamente Molti di voi nei commenti Mi stavano dicendo Marci ma il tuo rivale Marci ma il tuo rivale Avete ragione ragazzi Non lo so Non so effettivamente Dove sia finito Dove Che fine ha fatto Perché lui sapete Quando ne ho rubato il diamante nero Non è che ha reagito Quindi non so Che cosa stai scogitando E questa cosa Mi mette un pochino Singolo Tipo Dove lo possiamo Mettere anche un po' Staccato Tipo da questa parte Così è carino Vedete un po' diverso Qui mettiamo il comodino Qua un altro comodino E poi qua Ne mettiamo solo uno Di comodino Giustamente Mi sembra che siamo messi bene Poi abbiamo le nostre lampadine Io adesso arredo solo In una stanza Perché se dovesse arredarle tutte Ragazzi Finiamo veramente dopo domani Con il video qua Abbiamo anche queste qua Vedete che un pochino Si accendono Ok Guarda che bella Tutta la stanza blu Mi piace il fatto che sia tutto blu Poi abbiamo detto Che per quello Per questi qua Che ci sono anche Le famiglie Mettiamo uno di questi qua Però possiamo metterlo Da questa parte Vedete che è più perfetto E mettiamo questo qua Piccolino da questa parte Bello mi piace Poi Il portascarpe Ecco cosa non abbiamo preso Il cestello Non abbiamo preso poi Vabbè fa niente Fa niente per il cestello Per quanto riguarda il gabinetto Possiamo metterlo da questa parte E qua potremmo mettere Una sorta di Muretto Si facciamo così ragazzi Togliamo questo qua E togliamo questo qua E li mettiamo Da quest'altra parte Così poi li facciamo Un piccolo muretto Così almeno siamo Sono un pochino più protetti Diciamo qua Muro E qua mettiamo gabinetto E doccia Poi per quanto riguarda il lavandino Quando Marco lo metterà in vendita Magari lo metteremo Però adesso Siccome non è in vendita Non possiamo farci mica niente Così E ci mettiamo la doccia sopra Doccia sopra Ecco qua Guarda che bello Oh Spettacolare L'unica cosa che stavo pensando È che effettivamente Noi abbiamo anche i mobiletti Della televisione da mettere Come possiamo metterli Li mettiamo qua davanti così Beh ci può stare Non è brutto Vediamo un po' Si dai ci può stare Alla fine uno poi va qua Se ha bisogno Dai non è così Negativo da vedere Magari Boh forse il Il letto qua Non mi ispira tantissimo Non lo so Non lo so ragazzi Non lo so Ditemi magari voi nei commenti Che ne pensate Però effettivamente Magari il bambino Vorrebbe vedere la televisione Con i genitori Quindi magari il letto di qua Con la testa di qua Non lo so Beh per adesso Lasciamolo qua Va benissimo così E poi ci serve il ventilatore Che rinfresca un pochino l'aria Quando ce n'è bisogno Ok guarda che carino Non gira vero? Si gira ragazzi Si gira ragazzi Che bello sta girando Guardate Spettacolare Non ci posso credere Vabbè adesso spegniamolo Che magari fa casino Allora abbiamo messo tutto Si mancano solo Alle finestre Un pochino di persiane Qua Ok così e così Poi facciamo così 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 e così Perfetto ragazzi Ok ragazzi Guarda che carino Mi piace moltissimo adesso Come si è gestita Questa situazione Speriamo che il prossimo Conquilino Il prossimo inquilino In realtà Si troverà bene Perfetto Allora qui Riapriamo La password per adesso È 1 2 3 4 Ma poi ad ogni ospite Ci sarà una password diversa A questo punto Direi che Andiamo al secondo piano Così almeno Facciamo anche una stanza Del secondo piano E poi facciamo tutto Con calma Da soli Qua facciamo una cosa Del genere Ok Qui così Qui così Guarda che carino Che è Qua potevamo fare anche tutto Vediamo un po' se facciamo tutto No non mi piaceva tutto Non mi piaceva tutto Così solo così È bello Allora Il letto Io lo mettiamo Io lo metterei Non so tipo Da questa parte qua Bello così Nell'angolino Qua ci metterei appunto La nostra Il nostro Ma perché manca un vetro qua Uè Allora Ma non va mica bene questa cosa Non posso metterlo sul vetro Urca Eh qua bisogna mettere un blocco normale Magari la destino Dopo lo metto Allora Mettiamo il nostro Fantastico Comodino Con la lampa da sopra Che si accende Sempre blu Categoricamente E poi da questa parte Mettiamo il portascarpe Lo mettiamo di qua Poi mi sembra che abbiamo anche da mettere La televisione La televisione Cavolo Sapete che potremmo gestire in maniera un pochino diversa Ovvero che La televisione No vedete così non mi piace Non so ragazzi Sono indeciso Sono molto indeciso Dovremmo mettere un blocco A questo punto facciamo così Guarda Senza dire niente a nessuno Mettiamo il letto un pochino più di qua Quindi da questa parte Adesso vi faccio vedere L'ideona che ho Lo mettiamo più centrale Il letto Mettiamo un altro comodino Mettiamo la televisione sopra E questi comodini qua Li rimettiamo Uno di fianco all'altro Direi che ci sta Vediamo un po' se sta bene Comodino di qua E poi ne vado a comprare altri ovviamente Ok qua bisogna dormire ragazzi Aspettate un attimo Devo dormire Devo dormire Devo dormire Ok facciamo così Mettiamolo giù Facciamo così E dormiamo Buonanotte Ok buongiorno Rimettiamoci il nostro fantastico zainetto E continuiamo l'arredamento Allora da questa parte Direi che mettiamo Ma sapete che Non so però effettivamente Se va bene messa così Allora aspettate un attimo Rifaccio tutto due secondi Ok finito Sono andato anche a prendere un pochino di legno Guardate che spettacolo Adesso la stanzetta È molto 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 più bella Ho preso il legno Perché voglio fare questo divisorio Così da questa parte Per avere un pochino di privacy Quando uno va in bagno Vedete Semplicemente così Poi qui se c'è un tavolino Ma è dove Lui appoggi i panni sporchi Diciamo che ci sta Poi qua è coperto Abbastanza dal vetro Va benissimo ragazzi Direi che ci siamo Sono andato anche a comprare Un tavolino Vi stavo dicendo E niente Tutte queste cose qua Adesso che non abbiamo utilizzato E che dobbiamo usare Per fare anche le altre stanze Le metto all'ingresso Perché all'ingresso Ho lasciato una cesta apposta Per queste evenienze qua Che è da questa parte qua E ci sono un po' di cose Che ho lasciato Qui che non avevo utilizzato Perfetto Lasciamo tutto ragazzi Mettiamoci l'insalata Che l'insalata Dobbiamo mangiarla E ci siamo Guardate che carino Che è molto 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 interessante Sono molto contento Di questa cosa Di come sia venuto Molto contento E dopo aver recuperato La mia moto Che qualcuno mi aveva messo lì Andiamo un attimino Al McDonald's Che vi voglio far vedere Una cosa molto interessante Finalmente Davide venderà qualcosa Ciao Davide Guardate un po' Ho messo i prezzi E sono perfetti ragazzi Guardate È veramente tutto perfetto Perché abbiamo Il Big Mac Che cosa? 5 euro Ovviamente sono rimasto Più o meno Nei prezzi anche della realtà 5 euro solo panino Poi c'è il McChicken Poi ho messo Il Crispy McBacon Il MySelection E i due MySelection Ne ho messi a 6 euro Poi ho messo L'hamburger a 1 euro E il Cheeseburger a 2 Patatine grandi a 3 Il wrap a 4 euro L'insalata a 4 euro La Coca Cola a 3 euro Quella grande ovviamente E il milkshake a 1 Più o meno sono reali Realmente il Big Mac Solo panino Potreste comprarlo A 3 euro e 50 volte Dipende dai McDonald's Ma mi sembrava corretto Mettere un più o meno Tutto a 5 Così almeno è anche Più facile comprarlo Ho anche chiesto Alla banca Di insermi un cambio a valute Direttamente qua dentro È simile il Shulker Box Guardate che bello Stuck Lui ti dà direttamente La moneta Siccome molte cose Si possono comprare Solo con la moneta Ma non vi ho detto una cosa Una cosa molto importante Che Davide finalmente Non sarà L'unico dipendente Nella città Perché ragazzi Di notte Lavorerà un nostro piccolo amico Che si chiama Marco Con la cappa E lui appunto Lavorerà solo Ed unicamente di notte Perché noi saremo L'unico Proprio L'unico Locale Che ha dei lavoratori Notturni Che sarà appunto Marco Quindi se qualcuno Vuole venire a lavorare qua Ci sta Adesso abbiamo fatto Una vera e propria Apertura nuova Quindi penso che Prima o poi Arriveranno dei clienti E su sta cosa Sono decisamente Molto contento Poi per quanto riguarda L'ufficetto Che abbiamo qua dietro Io direi che Lasciamo tutto così Ma tanto lo utilizzeremo Veramente poco Ed infatti ragazzi Adesso andiamo a pagare Tutte le cose Che dobbiamo pagare Perché abbiamo molto Di cui parlare Anche di questa cosa qua Però volevo passare Dalla gioielleria Perché il nostro Fantastico amico Mi ha detto Guarda che abbiamo venduto Qualcosa di veramente grande Ok i clienti Se ne sono andati Sono c'era Vanessa Che comprava tutto Se ne è andata Eccolo qua Ettore C'è anche Giulio Ciao Giulio Giulio come stai Allora Ettore Dimmi un po' Abbiamo venduto finalmente La collana di Black Gems E' probabile che l'abbiano venduta Dopo la chiusura Del suo rivale Si dice Abbia piani segreti Contro di lei Ma si ricordi Che io sarò sempre fedele Solo ed unicamente A lei Quindi grazie Ettore Vuol dire che ha venduto Quella di Black Gems Dove che era? Eccola qua Oddio Ragazzi non ci credo Abbiamo 10.000 così Non ci posso credere Fantastico No ragazzi E' pazzesca sta cosa Abbiamo venuto il primo Gioiero da 10.000 Ma Ettore Ma tu sai chi l'ha comprato? Sì Un certo Gustavo Diceva di conoscerla Oddio Chi era Gustavo ragazzi Mi sa che l'ho già sentito Ah oddio ho capito Gustavo Era quello che ci aveva comprato Il primo gioiello Nella vecchia gioielleria Mi sa Ho capito chi era Non ci credo Sempre lui Vabbè ragazzi A questo punto Prendiamoci questi soldi Che sono realmente nostri Possiamo metterli finalmente Nel portafoglio Che cavolo Tu vai nella gioielleria Forse va nella gioielleria lui Allora andiamo in banca Andiamo a cambiare questi soldini qua Ok vai dalla banca Vai dalla banca Perfetto Ciao Marco Ciao Allora andiamo da lui Cambiamo questi lingotti Beh questi finalmente ragazzi Possiamo dirlo Sono nostri ragazzi Sono veramente nostri ragazzi Non ci credo Abbiamo guadagnato 10.000 euro così Fantastico ragazzi Fantastico Fantastico Che poi adesso li dobbiamo andare a spendere tutti Per pagare i vari mutui Cioè ragazzi Quindi tanto vale voi dite Beh avete ragione anche sul tanto vale Ma va bene così Allora mettiamo i soldi qua dentro Beh abbiamo 14.000 Adesso ce ne andranno via veramente un bel po' Però fa niente Allora Dov'è la mia moto? Ma? Chi mi ha rubato la moto? Mi sa che Marco mi ha rubato la moto No ragazzi non ci credo Ma scusate Che danno Marco Che danno Ma guarda un po' te Che mi aveva rubato la moto Alla Allora Sì dimmi Cos'è che ha comprato? Cos'ha comprato? Non so Non parla più Marco Marco non parla più Così Di un tratto Ha deciso che viene Fa così Ruba la moto E non parla Comunque dicevo Che dobbiamo tornare Nella vecchia casa Nella nuova casa Nella nuova villa Perché andiamo a pagare Tutti i debiti Che abbiamo da pagare Abbiamo un po' di soldi da parte Sicuramente sì Sono contento di questa cosa Vabbè però fa niente Non c'è Ormai va così Non possiamo fare altro Adesso abbiamo Accolorci tutto E sperare che comunque Vendiamo veramente Tante cose nella gioielleria Dopo parliamo anche Della gioielleria Perché molti di voi Mi hanno detto Dei nuovi crafting Per dei gioielli Di livello 3 Potrebbe essere Veramente interessante Come cosa Molto interessante Ma allora Allora qua vi faccio vedere Che ho i 64 Che mi ero tenuto Ma per adesso Non li utilizziamo Magari dopo Nell'episodio Li utilizziamo per altro Ma vedrete dopo Guardate che bello ragazzi Marco mi ha fatto Finalmente Una piccola scrivania Molto interessante Ma qua sopra Ragazzi guardate che Spettante Oddio però Marco Questo piano qua Me lo aveva regalato Per i suoi 300.000 iscritti E' uscito il suo video Sempre oggi Credo Aspetta una cosa Io ti devo dire una cosa E' uguale Ti stavo dicendo La stessa cosa Pensa Allora parti prima te Allora io devo farti Devo farti un regalo Per i 500.000 iscritti E' io per i 300.000 iscritti E' auguri a noi E vai Come la mettiamo Allora Allora io guarda So che ti piacciono un sacco Le patatine fritte Del McDonald's Ho deciso che Te ne regalerò 15 Quelle del Burger King Mangiamo i regali Oh Grazie Direttamente Cinque oggetti Di cui hai bisogno L'Ikea Io te li regalo Te li monto io direttamente Semplice Faccio così semplice Hai presente Che mi hai fatto L'ufficio sopra no Voglio anche sotto Tre scrivanie piccoli Proprio una cosa piccolissima E uno schermo Però sono solo due Sono due cose Semplice Allora aspetta Voglio anche Aspetta Fammi pensare Voglio anche il pianoforte Eeeh Ma perché Tutti quanti Fissati col pianoforte Il pianoforte E questa cosa qui Ah si Un mobiletto Devo prenderlo Mobiletto bianco Perché me lo devo mettere In una stanza segre Devo mettere Da una parte Ok Stanze segrete Va bene Allora si Pianoforte Quella cosa lì Della televisione Eh La scrivania Siamo a tre Guarda che se non lo sai Sopra c'è il terzo piano Super lussuoso Ma veramente Non ci sei mai andato No mai Allora Marci Allora aspetta Saliamo Ma Ciao Angelo E in pratica Non picchiare Angelo Che appena sta assunto Allora Poi Di qua invece C'è la cucina Super lussuosa Ok A isola Guarda che bella Che è La scavolini Quest'altro che è La scavolini Bella E con la televisione E tutto quanto Poi di qua C'è la super stanzaletto Lussuosa Non lo so Voglio la jacuzzi Voglio Se mi dai la jacuzzi Guarda ci sono Una jacuzzi anche a te Come quinto oggetto La jacuzzi Ok Segnateli Allora jacuzzi Televisione E col mobiletto Pianoforte Il monitor E i tavoli Perfetto Va bene Ok Perfetto Marce Ti saluto Già oggi faccio il lavoro Ah ok La jacuzzi Mettila dietro Se riesci Fai anche una porta Che porta sul dietro Dai Esagerato Va bene Grazie mille Grazie Ciao Ciao Ma guardate che bella La scrivania che mi ha creato Però Marco Questo pianoforte qua Non va bene Non lo so Ok Mettiamolo qua Così Dentro Ma è così Va bene E' un po' pieno Tutto ciò Però va bene così Ma scusate Ma la jacuzzi Dove me l'ha messa Perché a Marco Io avevo anche chiesto La jacuzzi Non è che me l'ha messa fuori Vero Mi ha fatto un ingresso Per andare fuori Vediamo un po' Se me l'ha messa Da qualche parte Eccola qua Ragazzi Qua dovremmo fare Una porta Che ci porti verso fuori Sicuramente Comunque dicevo appunto Qua mi ha fatto Una piccola scrivania Ragazzi Perché prenderemo E assumeremo Anche noi ragazzi Finalmente Oserei dire Un dipendente Che ci pagherà tutto Perché da soli Non ce la possiamo Sicuramente più fare Sta diventando veramente Assurda come cosa Quindi prendiamo I nostri soldi L'ultima volta Mi avete detto Che ho pagato Di più di merce E quindi niente Pagheremo di meno Allora Dobbiamo pagare 1600 Per il mcdonald Che è da No 1500 Era il mcdonald Sì 1500 E devo pagare da questa parte Poi devo pagare 2600 Da quest'altra parte 2600 Da quest'altra parte Poi devo pagare 200 Più 100 Di dipendenti Perché c'è un dipendente nuovo Quindi 1 2 E 3 E poi devo pagare Sempre qua L'affitto della gioielleria Che sono 400 1 2 3 E 4 E per la merce Del mcdonald Non la paghiamo Perché l'ultima volta Ce ne eravamo dati di più Quindi adesso Riteriamo i soldi Perfetto Ragazzi 1900 Village E ora noi Ok Siamo tornati Praticamente In negativo C'erano Abbiamo speso 4000 Praticamente Va bene così Però ragazzi Prima di continuare Guardate un po' Che cosa c'è qua Vedete che si apre Sentite Sentite Ok Guardate che cosa c'è qua sotto Oltre al tunnel Che ci porta Nella stanza di gabbia Aspetta vediamo se non ho fatto un fail È chiusa la porta No è aperta la porta Aspetta chiudiamola Ok Ragazzi Se apro questa porta Qui ho copiato un po' Stefefere C'è la stanza Delle pubblicità Guardate che bello Ole È ancora tutta da creare Ovviamente Perché non ho fatto Assolutamente niente Qua i negozi Bisogna andare a letto Dormiamo ragazzi Dormiamo 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 Facciamo così E dormiamo così Ok Buonanotte A tutti Buenas Buenas Noce Così No non lo scriviamo Fa niente Prima che sbaglio Scriverei spagnolo Dormite amici Veloci Dai non mi fate aspettare Che devo fare Della stanza Delle pubblicità Notte Punto esclamativo Vediamo se qualcuno Dice qualcosa Perché io qua Bisogno di dormire Uè allora Dai che mi devo svegliare Che devo fare Della stanza Delle pubblicità Allora Niente Nessuno dorme Ma si può ragazzi Ma è veramente Pazzesca questa cosa Ok abbiamo ripreso tutto Allora la stanza Delle pubblicità Sarà la stanza Che sarà adibita A diciamo Spammare tutte le collaborazioni Che faccio Oppure il mio merchandising Come ben sapete Dovevo mettere in vendita Le magliette del minatore Purtroppo però Con tutto quello Che sta succedendo Non possiamo andare In produzione Ed è meglio ragazzi Perché tutti i lavoratori È meglio che stiano a casa E non lavorino Essenzialmente Per queste cose qua Quindi niente Per adesso ragazzi Le magliette che ci sono in vendita Sono queste qua E sono quella Col burlone gigante Per chi non lo sapesse No Molti mi chiedono Ma perché ci chiami burloni I burloni siete voi Siete i miei fan E questo ragazzi È il vostro logo Guardate che bello E poi qua c'è la scritta Marci sotto in descrizione Tutto Poi ho iniziato Una collaborazione Con Instant Gaming Ragazzi Guardate che spettacolo Adesso vi ho messo I giochi che potenzialmente Potreste comprare E c'è Minecraft A solo 19 euro Invece di 26 Minecraft Windows 10 Che sta a 4 euro Invece di 12 Tipo Quello per Xbox One Sta a 5 euro Tante invece di tipo 25 Sono delle offerte assurde Ho iniziato a collaborarci Perché comunque Mi sembrava interessante Portarvi questo sito Che vi permette di comprare Delle chiavi di gioco Voi comprate la chiave E poi le inserite Quando riscatate il prodotto Tutto totalmente legale Che magari qualcuno Pensa che sia illegale E ricordatevi che il lunedì Io faccio le live Su Marci Games E gioco con voi Siccome c'è GTA 11 euro Io vi dico Fateci un pensilino Anche perché adesso Sta uscendo anche Animal Crossing E anche su quello Porterò le live E prendetelo Che sta poco Su Instant Gaming Però basta Basta spam È finito lo spam Ah prima non ve l'ho detto Ma ho avuto una piccola Discussione con Gabby Che mi aveva chiamato Quindi adesso Vi lascio Alla clip Ah Marci Ti senti? Pronto? Sì sì Ti sento bene Ti sento bene Ciao Gabby Marci Dovresti un attimo Venire al circo Diciamo che ho un piccolo Problemino Con un leopardo Che non si comporta Proprio bene Quando mi avvicino Ehi Leo Ci penso io Arrivo subito Leo Lei chiamato Leo Leopardo Sì 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 Esatto È un leopardo Ogni tanto mi sbrano Tu hai fatto un viaggio in Africa Mi sta attaccando di nuovo Leo Calvati Calvati Leo Vieni Marci Un problemino Per favore Subito Grazie Eccomi Eccomi Guarda Sono qui con la moto Ci sono Ci sono Che metto giù Ok Che sei Arrivando Marci Qua 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 questo Circo Ti prego Mi ha mangiato mezza mano Guarda Sto sanguinando Marci Allora tu che mi hai detto Che il tuo viaggio in Africa Avevi incontrato un istruttore Non so Vedi Leo È andato Il requieto L'ho trovato qui davanti al circo Non so perché Ho deciso di usarlo per lo spettacolo Dato che Non so da dove venga Non so di chi sia Ma stefa al momento Non mi risponde Allora ho deciso di prendermelo In custodia Io Ok Prova colpirlo Col piccone Ma col piccone cosa fa Colpisci col piccone Non penso che Mi ha disegnato in Africa Non penso di faccia danno Guarda tranquillo Ciao Ma guarda Forse è meglio così Frustino No no Che frustino Il piccone Va bene Il piccone Colmarci Vedi non mi fai No 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 Stavo c'è No Il male Parci Non scambi dietro Che male Non è dietro Porca trota Mamma mia Stai scherzando Già dove Da mano Marci Il trucco era farlo Entrare dentro il cerchio Quello era l'obiettivo Quello era il cerchio Vuoi che ci provo Dai vai Provaci una volta Non ho una corazza Però Eh ma tu sei l'esperto Ascolto Facciamo una cosa Buttiamo E delle patate Nel mcdonald Vediamo se Ah diciamo No non credo che voglia Lo cibo Spazzatura Non la prese Non la facciamo così Entra aiuto Che male Non passa Ciao son qui Si mi sa che sta per passare Aiuto Gabi Non so cosa fare Su sto farci Mi ha messo Di tocare Un esperto Si era Dai buono Leo Leo Era un esperto Di chepardi Ecco il problema Non so che cosa fare Ragazzi Un problema Questo Marci In pericolo In questo momento Lui doveva passare Attraverso Quella cosa Eh Aiuto Allora Vabbè stavano piano piano Un po' d'altra parte Così mai Non mi vede Ragazzi È un leopardo Aiuto Un leopardo Questa cosa succede Marci Va tutto bene Più o meno Marci Marci Perché sei lì dentro Perché praticamente In africa Aveva domesticato Un gheppardo Questo è un leopardo È diverso Ah ecco perché Quello era il problema Allora Calmi tutti Teoricamente Fere dovrebbe Saperci avere a che fare L'ha catturato lei Eh lo spero Che magari non sia un po' Arrabbiato in questo momento Perché Prova Allora Mi ha morso un po' le orecchie Tieni Ti do le bistecche Che ti piacciono Ma io l'ho domesticato così Anche in montagna Ed è andato tutto bene Mi è andato tutto bene Sì 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 Bravo 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 Marci Scusa mi sento messo in questa situazione Guarda ci mancherebbe Sei pronta? Sì sono pronta Allontanatevi State indietro Allontanatevi Indietro Marci Vieni qua che ti riporto nel tuo habitat Bellissimo Ti avevo preparato Aspetta che ti apro anche qua Perché vedo che Ragazzi non state troppo vicini No 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 Mi hai già assaggiato abbastanza Ti state facendo venire l'ansia Io quando l'ho preso è andato tutto bene L'ho domesticato subito Non sapevo neanche che fosse capace di morsicare così Ciao ragazzi Ciao ciao Che peccato Però adesso come farò col mio spettacolo Marci? Eh Guarda non lo so Usiamo set Ti travestiamo da gorilla Eh sì certo Facile così Se mi paghi sì va bene Va bene Quanto mi dai? Per i soldi tutto Qualche lingotto Uno stack Ah sto scherzando Ci dobbiamo pensare Comunque un lavoro da mascotto potresti farlo eh Ciao ragazzi Forza forza entrate Ciao Benvenuti al nostro zoo Questa è l'inaugurazione Sì oggi sì Certo È l'inaugurazione L'inaugurazione ufficiale C'è cibo C'è Tobi È la nostra mascotta ufficiale Che bello È un po' alto È un po' alto No 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 È un essere umano Abbiamo il dubbio Quindi non ti avvicinare troppo È un porso un po' umano Qui Ci sono gli elefanti Ma in futuro Questa cosa ve la voglio squillerare Faremo Una sorta di percorso Dove si potranno cavalcare gli elefanti No E potrete fare la passeggiata sopra gli elefanti È una roba incredibile Stiamo aspettando che finiscano di crescere per addomesticarli E dopodiché la creeremo Comunque sono Gino e Molly Loro sono un'attrazione incredibile dello zoo Perché qualcosa mi dice che qualcuno di noi verrà calpestato Anche secondo me Anche secondo me È abbastanza pericoloso Basta che siete attenti Da questa parte abbiamo i proccioni Che sono sempre carini Io prima di andare Volevo dirvi una cosa Un regalino per voi Un regalino? Un regalino? In realtà è per Fede Non è per te Ok Bello Praticamente sapete che ho fatto 500 mesi Tutte queste cose qua Allora Ho un hamburger In diamante per te Fede Questo che ti piace Anche per te è un regalo Bellissimo Dimmi che di bambù Ma Insalata di bambù ovviamente Cioè è ovvio Allora ti piace Non provarci me più Questa è una ciambella di bambù Posso vederla? Tieni Ok grazie Ti la ho un hamburger Ok Va bene È uno scambio Bellissimo questo hamburger Ho sbagliato da Ho sbagliato da Ho sbagliato da questo Oh no Lo litigate anche nei giorni di festa Vabbè niente Ciao a Dio Ciao Ok l'avete visto ragazzi È successo un po' Un patatrack ragazzi Ho rischiato di Realmente lasciarci le penne Cavolo È stato veramente complicato Ma adesso ragazzi È arrivato il momento Sì di prendere questi soldi qua ragazzi Perché comunque abbiamo detto Che possiamo utilizzarli Per delle cose Che non sono a scopo di lucro Quindi non possiamo tipo Comprarci non lo so Un nuovo negozio Cosa del genere Però possiamo utilizzarle Per queste cose qua Allora Perché ho preso 1600 ragazzi In realtà 16.000 Intanto fatemi prendere la moto Perché ho lasciato di nuovo la moto Che problemi ho con la mia moto Che la lascio sempre in giro Non riesco mai ad utilizzarla Mannaggia A me è incredibile questa cosa Ok Ho preso le patatine La utilizziamo ragazzi Perché andiamo a comprarci La smart car ragazzi Voglio avere finalmente Anch'io una macchina Nella serie No in realtà a questo punto Lasciamo la moto qui Perché comunque Se vado verso La concessionaria Uscirò che avrò appunto Una sorta di macchina Direttamente Quindi è quasi inutile Andare a comprare altro Che bello ragazzi Sarò forse il primo Credo Ad avere la smart car È una cosa che mi rende Un sacco felice Perché comunque Ho sempre desiderato Avere una macchina Dentro la serie Adesso che posso averla Sono super 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 contento Allora cerchiamo di andare Da questa parte Vai Marci Corri 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 che qua c'è La concessionaria C'è Massimiliano Che la vende Massimiliano Massimiliano Che tu mi hai rubato Il gioiello ancora Ma nessuno sa Che tu mi hai rubato Vabbè fa niente Non diciamo niente Ciao Massimiliano Allora io voglio Comprarmi la smart car Quanto costa? Costa 15.000 Non costa 35 Mi sa costasse 35.000 La jeep costa 30 Vedete anche Gabby Comunque Tenuto i soldi della rapina Si è preso la jeep Quindi anche secondo me Posso fare questa cosa Prendiamo la smart car Allora ragazzi Fantastico ragazzi Smart car nostra La voglio a blu Ma vediamo a che velocità va Ok mi è apparso il fiore Nell'inventario Vediamo a che velocità va Questa smart car Va lenta Ma mi sono buggato Mi sa che io Mi metto la velocità Un pochino più elevata Vediamo quanto va No vabbè dai ragazzi Va a 12 E' anche più carina Da guidare rispetto Alla moto Che andava a 16 No dai 11 ci sta ragazzi Guardate che spettacolo Ho la macchina nuova Io quasi quasi Adesso vado da Marco Perché a Marco Gliela voglio far vedere Anche lui piaceva un sacco Allora se vado su Questa cosa qui Vado a 11.7 Se invece vado nell'erba Vado leggermente più lento Vado tipo a 10 qualcosa Si beh forse un upgrade Potremmo farlo Magari lo facciamo Alla fine del video Allora parcheggiamoci per bene Parcheggiamoci per bene Guarda il retro Vado veramente lento Vado lentissimo Il retro la facciamo così Allora apriamo qui E mettiamola dentro Ragazzi Ok Ce l'abbiamo dentro Perfetto Guardate che parcheggio Perfetto Sopraffino Guardate qua Ho anche un sacco di cose Che ho messo a cuocere Ok Facciamo così Andiamo da Marco E vediamo un pochino se c'è Ah ma sei arrivato Ciao Cosa vuoi Allora io e Marco Non lo sapete ragazzi Ma prima ci siamo visti Perché nel suo video Che uscirà Fra qualche giorno Abbiamo fatto una cosa bella Però non ve lo possiamo dire ancora Esatto Allora Marco Guarda un po' qui Che cosa c'è qua dietro Oh La macchina Ciao macchinina Sì ho comprato una macchina Perché in gioielleria Sono riuscito a vendere Un gioiello a 10.000 E quindi niente Ho deciso di investirli Mi pare un po' esagerato Comunque 10.000 Sai Veramente molto esagerato Dici Vabbè ascolta Molto Beh ci sta ogni tanto Vabbè la gioielleria Non è che funziona così bene Ogni tanto Avendo quel gioiellino Ma Vabbè Comunque niente Ti volevo solo fare due questo Beh Io guarda Secondo me è una macchina Sgiurata te la ruberò Ma come Guarda che la tua moto Fidati Io ti dico solo così I fan non lo possono sapere Ma tu fidati Che quella moto Che un giorno Ti sveglierai Che la macchina è rossa Non la troverai più Perché mi ha rubato Te l'ho diverniciata Ciao Effettivamente Potevano farmela gialla La macchina Devo chiedere se me la verniciano Ma adesso ragazzi È arrivato il momento Che tutti stavate aspettando Allora Mi avete detto Veramente tantissimi Che esiste La possibilità Di craftarsi Dei gioielli Di livello 2 Sinceramente Non so come Perché non so sinceramente Come qua riprendiamoci Un po' di panini Che ci possono servire Non ho ancora provato niente L'unica cosa Che mi viene in mente È di andare Assolutamente In miniera Perché andare in miniera ragazzi Perché dobbiamo Riempirci di un sacco Di questi qua Perché penso che Ne serviranno veramente Tantissimi E penso ragazzi Che prima o poi Ci servirà anche qualcosa Di livello 4 Di livello 5 Di livello 6 Avremo dei gioielli Veramente fantastici Ma siccome Io devo andare A casa mia Un attimino Perché devo andare A casa mia Cos'è che devo fare Mi sto prendendo Sì no Devo andare da franco Perché devo comprare Anche un attimino Un piccone in ferro Perché voglio provare A fare una cosa Molti di voi Anche Io dico sempre Molti di voi Ma veramente Tanti mi scrivono Queste cose Mi hanno detto Che si possono fare Le stringhe Di rainbow diamond Quindi la collanina Quindi la collanina di rainbow diamond Questo come facciamo A saperlo Come facciamo A scoprirlo Beh l'importante Adesso è andare Da franco Prendere il piccone Ciao franco Quanto costava il piccone Voglio comprare Costava 5 Noi 5 ce li abbiamo Sì perché l'altro giorno Ho cambiato un po' I soldi Non so se ve ne eravate Accorti all'inizio video Voglio comprare Degli oggetti Sì Voglio prendere Questo piccone qua Grazie mille franco Molto molto gentile Allora proviamo Un attimino Rainbow diamond Ce li abbiamo Certo la facciamo così E facciamo così Ah ok Vediamo se funziona Non funziona Come funziona allora La cosa Come devo farla Questa cosa qua Dite che c'è Un altro modo Per farlo Non lo so eh Non è che devo Mettere il piccone In diamante Immaginate Se devo mettere Il piccone in diamante Voglio anche andare Ragazzi Da franco Per vedere Se effettivamente Scusate da franco Da merlino Se mi compra Qualcos'altro Merlino Merlino Ciao Io ho bisogno Che tu mi compri Qualcosa Lo sai Allora Vediamo un po' Che cosa mi compra No no Deve vendere oggetti Vediamo un po' Uuuuh Il purple diamond Da 4 Ragazzi Cioè Ha 80 È tantissimo Considerando che Un diamante Dormale Lo vendiamo A 50 Allora ragazzi Ci penso Mi sa che Mi sa che lo farò Mi sa che lo faccio Perché sono soldi in più Che ultimamente Bisogna approfittarne E vendere subito Assolutamente Assolutamente Ragazzi Allora vorrei Vendere oggetti Io te li vendo tutti Cioè te li vendo tutti Ragazzi Mi faccio veramente Un sacco di soldi Sinceramente Allora vediamo un po' 60 Eh sono tanti soldi Sono veramente tanti soldi Ragazzi Vediamo Passiamo da 11800 11000 Facciamo così 11200 Basta far così in realtà Tolgo questi qua No beh facciamo così ragazzi Da 11800 A 13000 Ragazzi Sono tanti Sono veramente tanti È stata una cosa Veramente fortunosa Avere questi soldi qua Ma a noi va bene lo stesso Riprendiamo tutte queste cose qua Mettiamole via E direi che a questo punto ragazzi Andiamo in miniera Perché andiamo in miniera ragazzi Perché dobbiamo prendere un sacco di cose Quindi bisogna andare in miniera E dobbiamo utilizzare il nostro nuovo piccone Perché ve l'avevo promesso Che iniziamo in miniera Ma poi non ho iniziato in miniera Sinceramente Quindi niente Andiamo all'esplorazione E troviamoci direttamente in miniera Fra pochissimo Perché Perché faremo il devasto Secondo me Il devasto Oh Siamo finalmente tornati Nel nostro habitat Naturale E a questo punto Siccome abbiamo Super piccone E siccome dobbiamo fare L'episodio da un'ora Poi magari ragazzi Vi immaginate che dura più di un'ora Io impazzisco Se dura più di un'ora ragazzi Perché magari ho registrato Più di quello che dovevo registrare No a parte gli scherzi Ho deciso che oggi Scaverò praticamente Tutto quello che vedo Che a parte diciamo Il carbone Perché il carbone Non mi interessa Prenderlo per adesso Perché siamo abbastanza pieni Magari ne posso prendere un po' Col piccone con fortuna Perché sicuramente Me ne da un po' Io spero che nei prossimi episodi Però vi dico la verità Diciamo Il libro con efficienza Perché effettivamente ragazzi Non abbiamo un libro con efficienza E quindi questa cosa Un pochino Devo essere sincero Ci frena leggermente Allora qua si è messi Un po' male Non mi piace questa zona Per niente Però potrebbero esserci Dei diamanti Normali Intendo Visto che li possiamo vendere I diamanti normali Ok Ok Qua c'è del ferro Prendiamo anche il ferro Sono curioso sinceramente Di sapere Questi gioielli di livello 3 Come effettivamente Potrebbero essere strutturati Non lo so Non lo so ragazzi Perché L'unica cosa che mi è venuta in mente È stata Fare tutti i blocchi Come si dice Tutti i blocchi di questi qua Che contorano Un Un pezzettino Di Di rainbow diamond Non lo so Adesso vediamo Comunque scaviamo un bel po' Perché abbiamo bisogno Veramente di tanti Io penso che voglio arrivare Almeno avere A tutti Cavolo Io quello purple Li ho venduti E questa cosa Non ci voleva Forse ho sbagliato A venderli Mi sa che ho sbagliato A vendere Però vabbè Dai comunque Abbiamo abbastanza tempo Possiamo minare Tutto quello che riusciamo Facciamo una cosa Provate a scrivermi Nei commenti Secondo voi Quanta roba troverò Io tanto la roba La troverò qua La metto sempre nell'invento Non la metto nello zaino Quindi non si mischia Quante robe trovo Dopo aver fatto Circa 10 minuti Di mining Bello estremo Perché tanto so Che vi piace il mining Estremo Lo vedo dalla serie Del lunedì Del non rompere Questo blocco Lo vedo proprio E mi sa che lunedì Mi sa che spaccheremo Proprio Questi Rainbow diamond Qua Perché sarebbe molto interessante Da andare a scavare In una serie Vediamo chi trova Di più di qualcosa Ma non lo so Secondo me È interessante Ok Vai Prendi anche un pochino Di questo carbone Il carbone ci piace A noi ci piace tanto Il carbone Anche se ho dato Di non prenderlo Un pochino Lo prendo Perché può esserci utile Per riempire La fornace Allora Qui Rainbow diamond Abbiamo finito No qua si scena C'è anche del mithril Il fatto che ci sia Del mithril È interessante Però qua si deve salire Ma va che che aver Non agito Ma va quanta roba Ma quanta roba C'è qua ragazzi Oddio Abbiamo trovato I magenta I rainbow I purple Finalmente I purple ci servono Perché li abbiamo venuti tutti Qua c'è dell'oro Io penso che anche l'oro Utilizzeremo Per far qualche Nuovo gioiello Non so cosa me lo dice Ma secondo me Sapete che Potrebbe potenzialmente Servirci a qualcosa L'unica cosa che un po' Mi dà fastidio È che questo rainbow diamond Non si può prendere Col piccone con fortuna Quindi non abbiamo La fortuna di trovarne Un pochino di più E per quello che non capisco Perché venga venduto Venga comprata così poco Non lo so Non capisco sinceramente Perché alla fine La probabilità di trovare Il diamante normale Mi sembra quasi più alta Chissà però Se quello che dice uno di voi È vero Ovvero che c'è Un'altra tipologia di diamante Super nascosta Che non ho mai trovato E effettivamente Non ho trovato neanche più Il black diamond Il diamante nero Non so come mai Ma non lo sto veramente Più trovando Non so voi ragazzi Ma io ultimamente Non l'ho più visto Mi ricordo solo Quella volta lì Che l'ho saltato Ma oltre a quello Basta Allora qua abbiamo anche La nostra fantastica acqua Che ci può servire In questo momento Siccome qua C'è un pezzo di rainbow diamond Che io sicuramente Voglio comprare Prendere Non comprare Che è quell'arancione Non sono riuscito a salire Sali 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 di nuovo Ok Da questa parte c'è dell'oro Prendiamo anche l'oro Beh l'oro ragazzi Allora l'oro È un po' Un tabù l'oro Perché non ci è servito Realmente per far Chissà quanti Come posso dire Gioielli Perché abbiamo utilizzato Principalmente Diamante Black gems Tutte quelle cose lì Ok qua abbiamo anche Del ferro Sì il ferro Lo prendiamo perché ci può servire Per fare quegli altri gioielli Qua sopra mi sembrava ci fosse qualcosa Esatto Guarda quanto ce n'è qua Di rainbow diamond Mamma mia Qua c'è un altro Ok arancione Come si è ammessi Non si è ammessi male Però vi dico la verità Buttiamo via Un po' di cose che non ci servono Le buttiamo via qua dentro Qua Via butta qua dentro Fai un bel buco E buttiamo via La stone Il granito La cobblestone La diorite Che non ci serve E direi basta Tutto il resto Ce lo possiamo tenere Noi però vogliamo solo I rainbow diamond In questo momento Quindi gentilmente Facceli spawnare Ok facciamo così Così almeno mi toglie l'acqua Ottimo Ok questa è la magenta Però diamanti Non ne stiamo trovando Là sopra ho visto altri Rainbow diamond Ce ne sono parecchi In questa caverna Ce ne sono veramente parecchi Però La situazione è complicata Perché ce ne sono tanti Ma non stanno spawnando Tipo quelli purple Volete dire che mi comprava Quelli purple Perché erano I più facili da trovare Spero di no ragazzi Questa cosa Ecco I più difficili da trovare Volevo dire Non i più facili Potrebbe essere un problema Perché Effettivamente Non so come si possono Craftare questi gioielli Quindi non vorrei Che abbiamo sbagliato tutto A vendere tutto Anche l'altra volta Abbiamo venduto Però dovete pensare Al fatto che io Devo pensare anche A riguadagnare Un po' di soldi Dato che comunque Abbiamo veramente Un bel debito Con la banca Quindi se posso vendere Qualcosa Diamanti normali Là sotto intanto Non so se li avete visti Ma c'erano dei diamanti Normali Li ho visti Oh diamanti normali Sono questi qua Sì sono ancora questi qua Guarda tutti vicini Che bello Allora No aspetta un attimo C'ho lo spazio Così uno Ok Lì c'è della lava Però facciamo così Ok Due Tre Quattro Ma guarda quanti ce ne sono Ce n'è anche uno qua Quattro Cinque Sei Oddio ragazzi Sono tantissimi Sei Sette Otto Nove Dieci E undici Ragazzi E abbiamo 20 pezzi di diamanti Beh pensavo di più ragazzi Ce la sono sdoppiate Praticamente Niente di così Eccezionale Io prendo anche il ferro E guarda che fortuna Dopo che c'è tutto questo ferro qua C'è anche il rainbow diamond sotto Che sarà viola No sarà magenta Ma guarda un po' quelli magenta Ma quanto ferro c'è ragazzi Ma stiamo scherzando Ma che diamine E tantissimo Quello che abbiamo trovato Va bene Va bene Va bene Qua è finito tutto Andiamo nella caverna Che c'era dall'altra parte Che mi sembra Che fosse proprio un'altra Basta Dai raga Però tutto questo ferro Non va mica bene trovarlo Eh Mannaggia Quanto ne ho di ferro Ma no Se ne ho 64 più 19 Alti rainbow Diamond Ce ne sono tantissimi Guarda qua Ma ti ce ne è Sto a me togliere un attimino L'acqua qua Che fastidio L'acqua qua Mamma mia Mi dà fastidio Un botto Facciamo così Facciamo così Oh diamanti normali Diamanti normali Uno Due E basta Solo due Davvero Solo due davvero Basta Che pacco Ah va bene dai Comunque siamo a veramente Un buon numero Di rainbow diamond Quindi diciamo che ci siamo Sinceramente Guarda quanti ne abbiamo Ne abbiamo trovati abbastanza Io spero che Devo andare a provare i crafting Ragazzi Perché secondo me Magari non servono Tutti quei blocchi che pensavo Perché mi sembra un po' eccessivo Effettivamente Trovare un sacco di blocchi Guarda quanti ce ne è qua Io pensavo Dicevo Dovevo fare questo crafting qua Ve lo faccio vedere con calma Ho dei blocchi Facciamo con la cobblestone Quindi blocco colorato Tipo qua il blocco di blue diamond Tutti i blocchi Più il blue diamond al centro Pensavo che potesse dare Un crafting Però mi sa che non sarà così Perché Mi sembra troppo Troppo costoso Sinceramente Mi sembra veramente troppo costoso Ok 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 Qua verde Qua giallo Ne stiamo trovando tanti Ma ragazzi Ma i purple pochissimi No in realtà ne abbiamo trovati nove Non è vero Ho detto una cavolata Ho detto Altri diamanti normali ce li dai? Niente diamanti normali Vero? Sto chiedendo un pochino troppo Forse Altri rainbow diamond Mamma mia quanti ce ne sono Mamma mia ce ne sono tantissimi Però comunque mi ritrovo sempre in questa cavernucciola qua Mannaggia Mannaggia Oh altro mitri Non l'avevo visto prima probabilmente Vendi questo mitri che ci può servire per altri crafting estremi Vai marchweets Ok Guarda quanto ce n'è ancora Ce n'è tantissimo Da questa parte non siamo andati però mi sa No Da questa parte non siamo andati Credo Là sopra Ecco di qua non siamo andati sicuro Di qua sicuramente non siamo andati Perfetto saliamo E vediamo di trovare qualcosa Però basta ferro Ragazzi non posso continuare a minare il ferro Ah meno male che è finita la caverna Ah ma qua si distendeva verso un'altra parte Ok Mica l'avevo capito io Ok Qua sopra c'è un altro rainbow diamond Mica è viola ancora Però dai va bene Quello arcobaleno ci mancava un pochettino Da questa parte si scende Qua ce n'è veramente parecchio Guarda quello viola lo stiamo ritrovando Quasi quasi guardate Me ne vado a vendere ancora Vandaggio Mi faccio un sacco di soldi Mi faccio Blu Magenta Beh dai è interessante È interessante Qua avevo lasciato qualcosa Avevo lasciato anche quello arancione Pensate non è che qualche volta l'ho lasciato di nuovo Potrebbe essere un problema quello che ho appena fatto Qua c'è qualcosa Altro oro Prendi l'oro Qua si espande la caverna Si Si sale Ancora Ancora purple ragazzi Oh qua stanno già dormendo Allora Devo dormire anch'io Cosa posso buttare Cosa posso buttare Buttiamo la diorite Ok Ok mettiamo il traveler backpack giù Così Così E si dorme Notte Buongiorno mondo Che bello No l'insenatura però non la voglio Anche se ci sono dei diamanti giù No l'insenatura preferisco evitarla ragazzi Perché è un disastro L'insenatura da gestire Continuiamo a scavare in queste zone qui Ma io direi che per adesso può anche bastare E direi di andare a fare un bel crafting estremo Dei nostri gioieri di livello 3 Perché secondo me ci sono fino Non so secondo me ce ne sono di tanti livelli ragazzi Ho questo presentimento Non penso che si fermino solo a livello 1 o 2 così Allora qua c'era quello blu che ho perso Là sopra ce ne sono un sacco che ho dimenticato di prendere Però fa niente Non ci so arrivare lì sopra Facciamo che andiamo ancora oltre Queste caverne sono veramente giganti comunque È assurdo Guarda quanti ce n'è Ma sono tantissimi Porca miseria Mannaggia ragazzi Sono veramente tanti quelli che c'erano in giro Però diamanti normali Veramente non c'è l'ombra eh Ombra 0 Vediamo se qua ce n'è da qualche Qua secondo me qualcosa c'è Non so il presentimento è che questa è proprio una cavera da diamante normale So vediamo Vediamo se ho ragione No non ho ragione per niente No niente niente Ci ho provato io eh Io ci ho provato però niente Lì ce n'è uno ma non voglio prendere Oh diamanti va vedi Vedi che l'ho detto Vedi che l'ho detto Io li chiamo i diamanti Loro vengono a me è diverso Uno Due Tre Quattro E siamo già a 33 pezzi di diamante ragazzi Mamma mia Pazzesco 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 veramente Cerchiamo l'ultimo rainbow diamond ragazzi E poi direi che torniamo a casa E andiamo a provare i crafting estremi di questi di livello 3 Sarà veramente una cosa incredibilmente Che cos'è sta cosa No è l'olio Ragazzi c'è l'olio Non ci credo ma sponi in caverna l'olio Che schifo aiuto Mi sono buttato dell'olio Eccolo qua L'ultimo sarà di colore Rosso Verde Volevo dire verde ma non l'ho detto Ok sono tornato a casa Ho già messo a cuocere un bel po' di roba Guardate qua ci sono già i 64 Ho messo tutto nello zainetto Allora questo è il nostro bottino finale Con quello che avevamo anche prima 15 di purple diamond 38 di quello blu 46 di quello magenta 40 di quello rosso 32 di quello arcobaleno 37 di quello arancione 17 di quello verde E 24 giallo Ho compreso 349 di quello di diamante normale Molto interessante Ma adesso ragazzi È arrivato il momento Di provare i crafting di livello 3 Io ve lo dico ragazzi Per questo video da un'ora Almeno 50.000 like Ed il crafting gioielli Lo voglio provare proprio qui Nella gioielleria Dove tutto verrà venduto Dove tutto diventerà soldi Sì Ettore lo so che tu vendi tutto E tu sei sempre fedele a me Mi raccomando Io ti tengo d'occhio Allora guardiamo un attimino Il nostro zainetto E proviamo a fare dei crafting Allora solo dubbio su una cosa Su tante cose Allora Innanzitutto proviamo a rifare Sta cosa del Appunto Dei nugget di rainbow Vediamo un po' se mi vengono Non riesco a capire come io debba fare Scusate se mi sono toccato Ma c'è tipo un insetto In stanza Bellissimo Non capisco se devo metterne Un po' di meno Non posso capire Però sicuramente C'è un modo per fare Per fare qualcosa Non so Oh eccoli A caso Rainbow nugget Ma che bomba Bellissimo Quindi teoricamente Se io metto queste cose qui E contorno Dovrebbe darmi Il rainbow string Che spettacolo ragazzi Funziona Però io adesso ho usato Un piccone intero Per fare solo queste due Queste due stringhe Spero che servano quelle in diamante A questo punto Non lo so Sono dubbioso Allora facciamo una cosa Siccome di questi qua Magento ne abbiamo tanti Proviamo a fare il blocco Facciamo il blocco E proviamo a fare Un po' di cose Allora quelle diamante Non ce le abbiamo di stringhe No Però possiamo sicuramente farle Quindi andiamo un attimino A comprare Dal nostro amico Franco Dei nuovi picconi Perché ci servono essenzialmente Benissimo È anche tornato giorno E io ovviamente Devo mangiare Allora Ho preso un bel po' di picconi Quindi a sto punto Facciamo in modo che Com'è che era Non mi ricordo più Così Ok Facciamo delle altre stringhe Di arcobaleno E queste altre tre Le facciamo di nugget Di diamante Dovrebbe essere Così Che si faceva Esatto 36 Me ne dà Ottimo 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 Allora Ce l'abbiamo Mettiamo queste tre stringhe Al centro E abbiamo anche le stringhe In diamante Perfetto Allora proviamo a fare una cosa Secondo me Il livello tre Si fa in questa maniera A parte che così non si faceva Perché si metteva il ferro di fianco Così no Allora potrebbe esserci anche La possibilità Che si devono mettere due blocchi E non solo uno Non lo so I crafting purtroppo Non li sappiamo Di questa cosa ragazzi Quindi bisogna provare In tutti i modi A fare qualsiasi cosa Vediamo se è così Così non è Con il rainbow Invece Non è neanche così Allora Però noi dobbiamo creare La gemma in realtà Perché effettivamente Prima si creava la gemma Allora Sto provando a pensare Si può fare magari Contornandolo con dei diamanti Controllando con dei diamanti Potrebbe essere un DEA No Magari con dei diamanti magenta Vediamo se con dei diamanti magenta funziona Oddio funziona Funziona Magenta gem livello tre Perfetto Che bomba Ma è bellissimo ragazzi Vediamo Allora mettiamo il rainbow string No non funziona Cosa devo fare Devo fare tipo così No Devo fare Con quelli di diamante Vediamo se con quelli di diamante Mamma mia funziona ragazzi Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Vediamo com'è che ci sta indosso Allora Togliamoci quella di diamante Vabbè ma è enorme Ragazzi ma è bellissimo Allora io Adoro questi gioielli super giganti Non so perché Mi impazzisco Mi fanno veramente impazzire Veramente super bello però È un po' troppo grosso Sinceramente È un po' pacchiano Io direi Che chiediamo ad Ettore Ascolta Ettore Facciamo una cosa Io ti faccio una proposta Tu dovresti riuscire A cambiare tutte Queste cose qua Perché mi sembrano Un pochino troppo grosse Bisognerebbe farle un pochino Più piccole Queste qua le reputo Esageratamente grosse Cosa ne dici te Secondo me Non so adesso Cosa ne pensi tu Ma secondo me è così A questo punto Dobbiamo andare a prendere Le stringhe Le stringhe le vendono sicuramente Steve Fier Ne vendeva 17 a 100 Quindi se vogliamo fare Di tutti i colorini Dobbiamo prendere un po' Vado Corro Ok abbiamo pagato 200 Per prendere queste stringhe Perfetto Guardate Controllate ogni tanto Perché almeno vedete un po' Che ci abbiamo Gli abbiamo pagati I soldi Allora Io ho qua una cesta Io voglio lasciare In tanti picconi qua dentro Che per adesso Non ci servono Cose che non ci sa Togliamocele un momentino Perché sono solo Di unicamente fastidiose Questo basalto qui Non so neanche perché Io ce l'abbiamo in inventario A questo punto Craftiamo Per tutti i colori Un blocco Così ce l'abbiamo Allora Teniamoli un attimino giusti Magenta in alto Che colore ci manca Qua in alto Adesso il rainbow Mi pare Esatto Ok Allora il rosso ce l'abbiamo E lo mettiamo qua sotto Il magenta ce l'abbia Anzi li mettiamo qua nel nostro inventario Perché alla fine ci servono qua le cose Poi quello purple Perfetto Facciamo anche quello purple Quello blu Facciamo anche quello blu Ottimo Mamma Mi pare che spettacolo Quello rosso e quello magenta Ce li abbiamo Mettiamoli in ordine Di come sono lì sopra Così almeno siamo Più ordinati Devo imparare ad essere Un pochino più ordinato Devo essere sincero Ok Verde ce l'abbiamo Poi Giallo ce l'abbiamo Perfetto E poi ci serve quello Di rainbow Quello arcobaleno Ottimo direi Adesso Dobbiamo fare A questo punto Per ognuno Il contorno Però mi mancano Questi qua Vedete Quelli viola mi mancano Quelli blu Quello blu Lo posso fare Mi mancano quelli viola Vedete Al furia di venderli Ho fatto una cavolata Ragazzi Ho fatto una cavolata Mi servono due Di questi qua Viola Devo andare a prenderli Dopo vado a prenderli off camera E riattaccherò la clip Vediamo Quelli magenta Ne abbiamo abbastanza Quelli arancioni Ce ne abbiamo Sicuramente abbastanza Vediamo Controlliamo Sicuramente si Quelli verdi Giusti giusti Perfetto Meno male Quelli gialli Ce li abbiamo Anche questi Non giusti giusti Ma ne abbiamo pochi Ce ne sono rimasti E poi c'è quello Arcobaleno Vado a prendere quelli viola E torno dopo E siamo tornati a casa Più che a casa Siamo tornati in gioielleria Già che c'erano Ne ho presi un pochino D'altri Perché ovviamente Trovare i viola È stato un parto Ho trovato un botto Di quelli rossi Un botto di quelli Blu Ma non ho trovato Quegli altri Non ho trovato diamanti normali Per quello Non ho registrato la parte Ragazzi Perché tanto Non mi sembrava il caso Allora Facciamo quello viola Ce l'abbiamo Perfetto Eccolo qua Allora Adesso Bella cosa Dobbiamo fare Bella cosa Dobbiamo farci Un bel po' di stringhe In diamante Questa cosa È un pochino Complicata da fare Perché Dobbiamo mettere Un bel po' di diamante Qua ne abbiamo 36 Poi ne abbiamo altri E ne abbiamo altri Direi che questi qui Dovrebbero bastarci In teoria Vediamo un po' Quanti ne riusciamo a fare Vedete che non bastano Forse avevo ragione io Avevo ragione io Vediamo un po' Allora facciamoli Facciamoli Aspetta Facciamo così Li riprendiamo tutti Un mentino Qui ne abbiamo 16 Non ci bastano Perfetto Allora dobbiamo farne sicuramente Un altro Ce ne ho altri picconi Ne ho altri due Forse Ragazzi sapete che giusti giusti Ci bastano Giusti giusti eh Probabilmente giusti giusti Vediamo un po' 5 Sì devo fare un altro piccone Sicuramente Devo fare un altro piccone Sicuramente perché Ne ho 21 da questa parte Guarda Li ho comprati Senza Ma neanche dire Guarda Devo farli per forza così Senza volerlo Ok Prendiamo questi qua E a questo punto Contorniamo Questi 36 pezzi Con altre stringhe Perfetto Guarda Ne abbiamo 25 Dovremmo essere a posto Tac 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 Così facciamo così Siamo 8 9 8 Dovrebbero essere tutti Allora Viola Ce l'abbiamo Colonna di purple diamond Livello 3 Questa qua rossa Poi questa qua magenta Poi questa qua Arancione Poi questa qua Verde Poi questa qua E poi questa qua Rainbow Perfetto ragazzi Ce le abbiamo Tutte I prezzi di queste qui Ragazzi Li deciderete voi Perché Facciamo il caso Che queste qui Le abbiamo fatte pagare 200 Queste qui Le abbiamo fatte pagare 2000 Considerando che sono Sono praticamente Questi qui Però contornati Con un sacco Di queste qui Con la catenina In diamante Quindi ragazzi Costeranno un sacco Ditemi voi sotto Nei commenti Come dovrei chiamarle Come dovrei Aspetta io ne ho creati Due di magenta Ehm Diciamo una cosa Ettore Io ti faccio un regalo Voglio farti un regalo Adesso tu Io te la prendo La butto Ti lascio un attimino E mettitela Per favore Sì beh forse dovremmo Lavorare un attimino Sulla taglia Perché è un po' troppo grande Magari ci lavoriamo ragazzi E quindi niente ragazzi Qui Finisce il nostro video Da un'ora Non so se sarà durato Più di un'ora O leggermente mero Spero di no Vorrei farlo durare Un'ora esatta Ma sarà veramente complicato Perché il video È tutto tutto tagliato Noi ci vediamo In un prossimo video Vi saluto Lasciate un like Perché a 50.000 mi piace Lo faremo un'altra volta Da Marcia è tutto Ciao a tutti Iscrivetevi al canale